buongiorno oggi andiamo a fare questa borsa il punto alpino punto crespo come volete chiamarlo tanti nomi che di solito si presenta in questo modo invece io lavorandola in un altro modo mi fa l'effetto da questa parte che mi piace molto usiamo la fascia queen quella grande poi ho utilizzato l'uncinetto del tre e mezzo e poi ho utilizzato le catene fantastiche cosa ho fatto ho messo sempre i miei manichetti poi ho aggiunto degli anelli rotondi e ho aggiunto una catena da questa parte in color cuoio e da quest'altra parte bianca e oro che mi piaceva voi potete portarla benissimo così oppure mettete solamente la catena che rimarrebbe a spalla o se volete lasciare solo i macchini manichetti non c'è nessun problema insomma avete tanto tanto da spaziare poi l'ho foderata ho usato una fodera normale in fodere tipo raso potete mettere il cotone quello che volete bene detto questo passiamo al tutorial video questa è la fascia della queen quella grande io ho già fatto le catenelle e un giro di maglia bassa dentro la catenella adesso vediamo insieme l'altro con l'uncinetto del numero 3 facciamo un cappietto partiamo dopo vediamo se si vede bene e facciamo tutta la nostra catenella dentro nei buchini fino alla fine in questo modo dopo questo andiamo a nasconderlo andiamo affrancarlo bene ci vediamo quando siamo arrivati alla fine ecco siamo arrivati alla fine taglio il filo prendiamo l'ago ripasso dentro qua in questo modo adesso andiamo a nascondere i nostri fili adesso andiamo a nascondere i nostri fili e vado a bruciare con l'accendino in questo modo faccio anche dall'altra parte dove abbiamo iniziato con il nostro cappietto e ora di cambiare quest'ago è tutto storto ma ormai mi ci sono affezionato e andiamo a bruciare anche questo aspettate lo passo ancora di qua ok in questo modo in questo modo adesso con l'uncinetto del 3 andiamo a fare questo lavoro qua tutte maglie basse iniziamo con tre maglie basse nel primo portiamo dietro il nostro filo e poi tutte in ogni catenella due maglie basse così fino alla fine ecco c'è il video io ho fatto già una parte adesso ve la spiego ho fatto tutte le nostre maglie basse noi dovremmo realizzare se avete visto l'alexander che avevamo fatto quella con i fiori un passaggio simile però faremo questo punto non so se si vede bene io lo conosco come punto crespo chi lo conosce come punto alpino insomma è un punto in rilievo allora dopo che abbiamo fatto le nostre maglie basse prendiamo il nostro filo e dobbiamo realizzare tutte maglie alte io ne ho messe su 105 sono 105 punti iniziamo con una catenella un punto basso ancora nella catenella e una catenella il mio primo punto basso è così e adesso facciamo tutte maglie alte per un totale di 105 maglie ma se a voi dovrebbero risultare come me comunque è un lavoro che va bene sia maglie pari che maglie dispari non è quello il problema e continuiamo così fino alla fine ci vediamo quando abbiamo fatto tutte le maglie alte con le maglie alte giriamo il lavoro senza fare la catenella e adesso facciamo tutte maglie basse fino alla fine in questo modo ci vediamo quando abbiamo fatto tutte le maglie basse ecco siamo arrivati siamo arrivati alla fine ho fatto le maglie basse ho già girato il lavoro senza fare la catenella facciamo una maglia bassa una catenella che sarà il mio punto alto poi faremo il punto alto doppio carichiamo due volte il filo e andiamo a prendere questo punto alto il secondo che abbiamo fatto precedentemente un punto alto e un punto alto doppio nell'altro punto alto sotto in questo modo adesso facciamo un altro punto alto un altro punto alto un punto alto doppio e ci alterneremo con punti alti e punti alti doppi in questo modo non possiamo confonderci perché rimarrà sempre vedete lo spazietto perché facciamo una volta un punto alto una volta un punto alto doppio adesso facciamo un punto alto e un punto alto doppio in questo modo stiamo morbidi perché di solito tende un po' a stringere poi facciamo un punto alto e un punto alto doppio vedete quando abbiamo fatto il punto alto ne vedete due perciò questo no perché è il nostro punto alto lo facciamo qua prendiamo ora la codina del nostro punto alto dal davanti e facciamo così un punto alto carichiamo il filo due volte questo no facciamo questo entriamo di qua usciamo dal davanti in questo modo ci vediamo quando siamo arrivati quasi alla fine andiamo avanti così doppio in questo modo arrivati alla fine faccio una maglia alta tiro su scusate tiro su il filo passo dentro di qua e mi faccio la mia ultima maglia doppia in questo modo adesso rigiriamo il nostro lavoro scusate ma è un po' grandicello senza far la catenella torniamo indietro con le maglie basse questo punto si sviluppa così un giro di maglia a rilievo e un giro di punto basso che il punto basso lo facciamo sul nostro retro il lavoro del rilievo e sul davanti adesso andiamo avanti così tutte maglie basse quando arriviamo alla fine giriamo il lavoro ma dobbiamo alternarle dove abbiamo fatto la maglia doppia faremo la maglia alta ci vediamo quando siamo arrivati alla fine per fare il nostro terzo giro giro di maglia bassa ho già girato il lavoro adesso io parto subito con un punto a rilievo davanti voi se volete però potete fare partire con due punti alti poi in rilievo anche quando finite se non volete fare questo lavoro quello sta a voi io parto subito col punto a rilievo scarico 2 scarico 2 e scarico 2 un punto alto dove c'è a rilievo in questo modo e poi dove c'è il punto alto facciamo il punto a rilievo andiamo ad alternare un punto alto e un punto alto a rilievo in questo modo poi c'è il rilievo facciamo il nostro punto alto e qua facciamo il nostro punto doppio e continuiamo così allora dobbiamo fare 6 righe io vi dico le righe nel senso 1 2 3 4 5 sono 6 che sarebbero 12 giri perché c'è anche il giro di punto basso e vi do anche i centimetri perché dopo ognuno c'è la sua mano 12 centimetri finiti con anche il giro di ma quello lo vediamo dopo facciamo 12 giri che se andiamo a contare sono 1 2 3 4 5 6 6 motivi nel senso il rilievo dei punti doppi ci vediamo quando abbiamo fatto i 6 motivi i 12 i 12 giri ecco qua abbiamo fatto i 6 giri ho messo i marca punti ho contato 42 catenelle ho lasciato 21 catenelle centrali e dopo ho messo i marca punti per le altre 42 adesso andremo a lavorare i laterali partendo da questa parte qua incominciamo e dovremo fare 6 giri come abbiamo fatto i 6 giri qua non so se si vede bene parto da qua ecco così e faccio una maglia alta un punto basso una catenella adesso faccio un'altra maglia alta qua all'inizio e adesso continuiamo con il nostro punto dove c'è la maglia alta facciamo la maglia doppia adesso facciamo una maglia alta la maglia doppia e una maglia alta in questo modo così e arriviamo fino al marca punti quando arriviamo al marca punti ci vediamo sono arrivata quasi alla fine faccio una maglia alta e dove c'è il nostro marca punti che sarebbe la quarantaduesima finisco con una maglia doppia adesso andiamo a voltare il lavoro scusate faccio sempre fatica e torniamo indietro con le nostre maglie basse io avevo detto sei giri ma che corrispondono a dodici perché abbiamo anche il giro di ritorno della maglia bassa in questo modo vi faccio vedere allora ricapitoliamo mettiamo sono 105 maglie mettiamo il primo marca punti segniamo 42 maglie poi lasciamo in sospeso 21 maglie e altre 42 e facciamo i nostri laterali come in questo modo qua lavoriamo una parte per sei giri poi dopo iniziamo dall'altra parte per altri sei giri iniziamo sempre dal davanti come abbiamo fatto poi ci vediamo dopo che facciamo un perimetro di maglia bassissima eccoci qua ho completato i laterali questo è un 16 cm e questi sono 8 perché dopo andremo a fare la nostra la nostra cucitura per dare forma ai nostri laterali adesso come vi avevo detto faremo un giro di maglia bassissima però stando morbidi faccio la catenella e prendiamo tutte le catenelle morbidi però senza tirare niente in questo modo così lo faremo per tutto partendo non da dalla parte dove ci sono gli occhielli ma dal nostro laterale andiamo giù e lo facciamo tutto una volta aver fatto tutti i nostri laterali e tutto dobbiamo andare a cucirla incominciamo piegandola in questo modo come quando fate le fodere a sacchetto con l'ago tira fettuccia mi metto così noi abbiamo fatto i giri di punto bassissimo entro nella mezza catenella poi nell'altra mezza sempre del punto del nostro punto bassissimo e faccio questa cucitura qua magari possiamo aiutarci con delle pinze per tenerla poi vado sempre cucendole in questo modo mezza e mezza vedete il punto bassissimo io prendo la mezza e la mezza dall'altra parte perché mi piace dopo di creare la costina quando giriamo la borsa e procediamo in questo modo fino a arrivare alla parte dritta qua adesso vi faccio vedere come rimarrà fuori vedete e questo effetto mi piace molto ci vediamo quando siamo arrivati qua ecco ho fatto tutta la cucitura adesso dobbiamo piegarla in questo modo vedete dove c'è il marca punti la dobbiamo tenere così perché come avevo detto io 16 cm queste metà sono 8 e 8 adesso andiamo a cucirla farò prima questa parte perché mi dispiace staccare il filo sempre con la costina davanti andiamo a cucirla in questo modo come abbiamo fatto dall'altra parte poi al limite possiamo far passare il filo in modo di riprendere questo vedete questo è il punto bassissimo punto bassissimo noi prendiamo quella esterna e quella esterna in modo che all'interno rimane la costina e andiamo avanti così fino a qua poi dopo o facciamo passare il filo come farò io e facciamo l'altra parte comunque è come cucire una fodera a sacchetto sapete quando fate le fodere a sacchetto è la stessa cosa mi si è spirato prendiamo sempre questa e questa in questo modo questa e questa adesso cercherò di far faccio passare il filo in modo che non che non lo devo staccare ecco non tirando lasciando morbido ci vediamo quando abbiamo fatto anche l'altra cucitura ecco l'ho cucita ho girato la borsa vedete a me piace molto perché rimane proprio una una bella cucitura adesso procediamo anche dall'altra parte dopo andiamo per le rifinizioni volevo farvi vedere com'è com'è venuta per il momento che l'ho tirata l'ho girata dal dritto è bella grande e adesso vi faccio vedere per le rifinizioni una volta cucita è tutto andiamo a rifinire il nostro lavoro allora io partirò dentro al nostro buchino qua tiro fuori il filo in questo modo poi andiamo a francare il filo faccio una catenella che mi rimane di qua in questo modo così poi farò un punto bassissimo una catenella e un altro punto bassissimo una catenella sempre così in modo che si forma diciamo una costina non so come definirla sempre una catenella e un punto bassissimo catenella e bassissimo sempre così fino ad arrivare alla fine che andremo sempre dentro nel buchino come abbiamo fatto all'inizio una catenella e andiamo avanti così ci vediamo quando siamo arrivati quasi alla fine non so se riuscite a vederlo sono arrivata alla fine ho messo dentro l'uncinetto e faccio questo lavoro qua poi taglio il filo e con il mio ago tutto storto però sono affezionata ritorno dentro nel buchino e facciamo questo lavoro qua vedete rimane come una sorta di ghirigori chiamiamolo così poi andiamo a affrancare il filo facciamolo anche dall'altra parte ecco dopo aver fatto quel lavoro là sono andata a stringermi i laterali in questo modo andiamo ad affrancare il filo all'interno tanto dopo faremo la fodera non si vedrà niente lascio un po' che dopo lo affranco ancora meglio usciamo dentro dal buchino qua della nostra fascia in questo modo poi ve lo ripeto questo andiamo a affrancarlo ancora meglio usciamo dal primo catenella che abbiamo trovato e facciamo questo lavoro qua entriamo nel punto che abbiamo fatto un punto basso una catenella e facciamo avanti e indietro entriamo di qua e usciamo di là entriamo di qua e usciamo di qua in questo modo e arriviamo fino in fondo così ci vediamo quando siamo arrivati arrivata la fine entro dentro nel buchino come vedete ho già messo anche i manichetti nella borsa in questo modo adesso andiamo ad affrancare bene questa parte perché dopo andremo a tirare ecco sono andata l'ho messo già uno l'ho stretto adesso prendiamo il nostro filo e lo stringiamo a nostro piacere in questo modo secondo me così può andar bene poi lì è a vostro cioè come volete voi se la volete fare più stretta più larga oppure se non volete fare questo lavoro mettete dentro un nastrino e tirate adesso io andrò a affrancare questi in modo che la borsa mi dà non so se si vede bene alzo un po' la telecamera in questo modo che mi dà questo effetto qua della nostra bombatura adesso affranchiamo tutti i fili ci vediamo ecco qua ragazze allora io l'ho anche foderata ho stretto come vi dicevo a 9 cm di qua e 9 cm di qua poi se non vi piace questo lavoro potete mettere un nastrino e tirare avevo come avete visto prima avevo aggiunto i manichetti cosa ho fatto ho aggiunto ai manichetti al moschettone un anello apribile perché mi piacevano molto queste catene da questa parte l'ho messa bianca e oro e da questa parte oro e cuoio che poi voi potete benissimo togliere come vi ho spiegato all'inizio portarla o solo a mano o a spalla vedete voi bene spero che questa borsa vi sia piaciuta alla prossima ciao